E' bello ragazzi, una serata fantastica, piena di amici, questo fan club è fantastico, è veramente meraviglioso, buon appetito per i amici! E allora, maestri, continuiamo a ballare! Stai già suonando? Ti vuoi scogliare per la gioia delle nostre donne? Guarda, ti acclamano, ti acclamano! E continuiamo a ballare, adesso è il primo anno! Stai già suonando! Stai già suonando! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti